Yeah Ok ciao ragazzi siamo sulla beta di Rainbow Six Siege Provo ancora una volta a portare multiplayer Oggi è tutto il pomeriggio che ci provo Ma continuo a buttarmi fuori a metà partita Quindi non ha senso portare gameplay fatti a metà E provo ancora una volta se riesco bene Sennò mi butto di nuovo sulla Terroristunt Per vedere se riesco a fare più di 25 kill Allora T-Deathmatch Secure Area Siamo nel blue team quindi dobbiamo attaccare Dobbiamo attaccare Prendiamo questo Proviamo quello con lo scudo Confermo a loadout Partiamo da qua tutti assieme Ecco io sono sempre l'ultimo con loading Chissà perché non riesco a capire perché Tante volte mi si impianta lì Mi tocca uscire per forza Dai figa Dai che ce la fai Dove minchia è Dai 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 Trovate la figa Questo viene da sopra Quindi sopra non c'è un cazzo Deve un cazzo Oh cazzo Oh cazzo Non cazzo hatta la chatting Guarda la вещacorted Dove lo to Arrolei Effetti Perché Lanline Allora Ed Non capisco, non capisco Perché a me lo scudo non mi difende Boh Si buona Buono, 3 kill Tanto per iniziare Comunque adesso difendiamo Per difendere ci prendiamo Che cazzo me l'hai sullato Ci prendiamo per forza pulse Beh Confermo il loadout Comunque raga oggi è l'ultimo giorno della beta A me è piaciuto un casino Magari nei commenti ditemi se a voi è piaciuto A me è piaciuto un casino Ci sono alcune cose da mettere a posto Come questa storia qui Del matchmaking Dell'host che migra e butta fuori tutti Queste cose qui sono da mettere a posto E le metteranno a posto sicuramente Anche perché non si può lasciare Un gioco così Con un matchmaking Fatto così E una beta Ovviamente la La metteranno a posto Che cazzo Cazzo com'è bisogna stare attenti Luca Io Doi Trazione Ad cazzo di là ce ne c'è uno dei nostri il ferito due contro quattro cazzo porca merda cazzo di là cazzo dai che la porto a casa dai che la porto a casa mi fuori pezzo di merda sei te che devi venire da me non sono io che devo venire da te eh ciccio non 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 è connesso l'altro con il oh puttana 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 che culo cioè le ho fatte tutte io le kill porca di quella puttana e meno male che praticamente non c'è neanche quasi mai giocato io sto al multiplayer ci ho fatto le prime partite dopodiché dopodiché proviamo questo dopodiché ho ho sempre fatto la la lone wolf allora balistica se no cosa abbiamo questo o questo no teniamo lo scudo e mettiamo ah c'ho sti pistolini qui ppm 42 dai confermiamo loadout andiamo qua siamo all'attacco andiamo con feuds eh mai usato neanche feuds li ho sbloccati ma usati praticamente quasi mai se non mai ho sempre usato Twitch tu hai bisogno di trovare il contenere biohazard di solto sopra prima della sopra dai no ho sbagliato sono sotto e vabbè dai li spotteranno gli altri come peso chi ha come peso chi ha come peso qui chi ha come peso e qui ci sono mine perchè le sento l'obiettivo è sopra ne rimane uno e vai e vai grandi grandi good job victory flawless quindi raga sono riuscito finalmente a portarvi un ultimo video sulla multiplayer di Rainbow Six Siege non è stato facile perchè continuava o a buttarti fuori o a disconnettersi o lost migration o tutte le cazzi e mazzi che ci sono comunque sono tutte cose che sicuramente metteranno a posto quindi raga che dire se il video vi è piaciuto se la beta vi è piaciuta lasciatemelo nei commenti lasciatemi un like e noi ci becchiamo alla prossima ciao belli ciao